Incursione degli esponenti del Partito Democratico Enza Bruno Bossio, Stefania Covello e Carlo Guccione al centro trasfusionale dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Una visita durata all'incirca due ore in cui i Democrat hanno preso visione della situazione all'interno del presidio sanitario. Centra di eccellenza chiusi e smantellati, un apparato medico e paramedico di valore costretto a lavorare in condizioni strutturali, organizzative e igienico-sanitarie precarie, quanto sottolineato a margine della visita e soprattutto, dire di Enza Bruno Bossio, lo scarico di responsabilità sui medici da parte di dirigenti e quanto da condannare. La vicenda terribile della morte del signor Ruffolo per sangue infetto abbia fatto emergere con drammaticità quello che è un problema che stiamo denunciando da tempo. Non si possono tagliare i livelli di assistenza sanitaria perché se si taglia il livello di assistenza si mette a rischio la vita. È quello che stiamo dicendo da più tempo al commissario Scopelliti che invece continua a mettere evidentemente la testa sotto la sabbia e continua a depauperare sostanzialmente quello che dovrebbe essere l'ospedale AB, cioè il centro degli ospedali, cioè si chiudono contemporaneamente gli ospedali preriferici e invece di rinforzare l'ospedale più importante della città capoluogo si depaupera. Quello che abbiamo voluto fare anche andando a visitare il centro trasfusionale è proprio questo, cioè il centro trasfusionale è completamente depauperato, non ci sono sacche di sangue, gli operatori non sono messi nelle condizioni di lavorare, i ragazzi talassemici che sono assistiti straordinariamente dall'equip medico, paramedico dell'ospedale di Cosenza oggi rischiano di non avere più un posto dove andare. Bene, io credo che non si può scaricare sui medici, certo l'errore umano è sempre possibile, ma in questo caso non si tratta di errore umano, si tratta di un evento purtroppo annunciato di cattiva organizzazione. L'esigenza della ricognizione si era fatta sentire dopo la vera e propria bufera che aveva travolto l'annunziata dopo la morte a luglio di Cesare Ruffolo a seguito di una trasfusione, episodio che ha fatto emergere tutte le carenze di una struttura fino a poco tempo prima ritenuta centro di eccellenza.